SABATO 20 GENNAIO 2018 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 Partiamo dalle donne, giustissima, doverosa la tua premessa sul mondiale di pallavolo Io lo dico anche per chi adesso sul tuo assist ha girato su altri canali Per seguire proprio la competizione della finale dei mondiali Ricordiamo appunto che l'appuntamento con Zona Gol Poi viene replicato anche domenica alle 12.30 Quindi se siete ancora in casa domenica potete recuperare Eventualmente aveste deciso di seguire la finale del mondiale di pallavolo Eventualmente No ma tanto seguiranno noi e poi cambieranno Tanto sarà inizio set Quando noi finiamo loro sono all'inizio del primo set Quindi possiamo tranquillamente goderci questa cavalcata nel calcio di lettanti Perché Serie D, ovviamente Fiorentina Women, Empoli, Florenzia Ma soprattutto anche l'eccellenza giocata mercoledì È vero, è vero, eccellenza che si è giocata mercoledì Eccellenza che insomma era anche il campionato che aveva espresso poi i giocatori per la UEFA Regions Cup In particolar modo appunto tanti giocatori di eccellenza erano andati a finire nel roster a disposizione della Toscana di Uberto Gatti La competizione internazionale della UEFA Regions Cup sicuramente sarà un altro argomento di questa puntata di Zona Gol Promozione che doveva essere invece l'argomento di questa puntata di Zona Gol Perché insomma lo diciamo, siamo in due, non per nostra volontà Ma a causa di forza maggiore un rappresentante delle Boschi ci doveva raggiungere E sicuramente recupereremo la puntata con gli amici grigioneri Ai noi, motivi di traffico, abbiamo dovuto fare a meno dell'ospite Bando alle ciance, cominciamo a parlare un po' di calcio femminile come diceva il nostro buon Dario Parliamo di calcio femminile perché già da oggi, anzi già praticamente tra un'ora e mezzo Si gioca Pink Baris a suolo femminile Poi c'è Atalanta e la Sverona Women Ovviamente è impegnata anche la Fiorentina di Cincota Dopo la sconfitta in Champions contro il Chiavo Verona Però settimana scorsa abbiamo anticipato la Supercoppa Fiorentina che vince la Supercoppa contro la Juve Quindi ci sarà Chiavo Verona-Fiorentina Milan-Tavagnacco e Robica Bergamo contro la Florenza Florenza che sabato scorso ha ottenuto la sua prima vittoria in questo campionato di Serie A Era contentissimo mister Carobbi Complimenti a Stefano Carobbi e alla sua squadra E ovviamente chiude il posticipo tra Roma e Juventus Guardando la classifica che non abbiamo in regia ve la dico io Milan-7, Sassuolo-7 Fiorentina, scusate Juventus-6 che ha una partita in meno Verona-4, Florenza-4 Fiorentina-3 Poi il resto delle squadre ci interessano un po' meno Comunque la Fiorentina deve e deve assolutamente vincere questa partita contro il Chievo Chievo che ricordiamolo insomma ha rilevato Valpolipicella Che era la squadra appunto che ancora è la società che detiene diciamo il numero di tessera Per quanto riguarda poi proprio l'iscrizione al campionato Chievo che attualmente è ultimo in classifica a zero punti Però insomma Dario è interessante vedere come nel primo anno diciamo di derby Fiorentino della Serie A La Florenza con la prima vittoria della appunto della sua storia nel massimo campionato femminile Si sia portata adesso in vantaggio in classifica Quindi c'è già due euro La Fiorentina ha un punto meno ma è causa di forza maggiore Perché ovviamente mentre la Fiorentina giocherà e recupererà il 5 di dicembre Ovviamente poi potete seguire la partita come sempre su Teleride il lunedì pomeriggio Nel nostro pomeriggio sport C'è un po' di autopromozione Ci sarà ovviamente la terza partita per la Fiorentina e recupero contro il Pink Bari Un'altra sfida importante per le ragazze di Cincotta Ragazze di Cincotta che abbiamo detto hanno fatto una partita eccezionale A Kingsmedia o praticamente nel tempio del calcio femminile londinese Aspetta, ricordiamo che la partita in meno e il recupero quindi della partita del Pink Sport Time Bari È inerente alla partita di Supercoppa, alla finale di Supercoppa Insomma alla Supercoppa che di fatto si gioca una sola partita Vinta dalle nostre ragazze contro la Juventus Ma te eri già pronto a lanciarti in ottica europea Sei un grande europeista Sei un grande europeista diciamo anche da un punto di vista politico Nel senso in cui c'è praticamente una cosa importante da dire Con questo sfondo verde non si sarebbe mai detto Mercoledì è successo che Chelsea-Fiorentina Diciamo la Fiorentina dove l'Italia ancora è dilettante il calcio femminile Vanno a giocare contro delle professioniste E la regina di Svezia Stefani Orström si erge a paladina della porta viola E praticamente para tutto Para tutto a parte un rigore molto dubbio Discusso anche nei giorni successivi non dal Cincotta Però noi a dette lavori possiamo dirlo Una sconfitta che vale quasi come una vittoria Perché ci proietta il 31 di ottobre con la semifinale Anzi la semifinale scusate Il ritorno di questi sedicesimi di Champions League femminili al Franchi Dove la Fiorentina potrà raccontare soprattutto sul grande pubblico E su un affetto che Firenze sta donando Perché nella diretta fatta dal Chelsea Calcio C'erano più di 4.000 persone di cui tantissimi tantissimi fiorentini Senti ho un dubbio che Stefani Orström è ovviamente L'ultimo baluardo della squadra viola Ma essendo calcio femminile si dirà portieressa, portiera, la portiere Il portiere secondo me O la portiere o il portiere Senti nel dubbio direi di andare a vedere il tuo bel servizio Su Fiorentina-Celsi Anzi su Chelsea-Fiorentina Fiorentina-Celsi sarà ovviamente la gara di ritorno per quanto riguarda la Champions Andiamo a vedere insieme Un mercoledì bestiale Quando il risultato finale è una sconfitta Non si può essere entusiasti Ma uscire dal King's Middle Tempio del calcio femminile londinese E con solo una rete subita È un risultato molto buono per la Fiorentina-Women di Antonio Cincotta Che non sfigura affatto E mette in difficoltà una squadra di un valore molto più alto Le inglesi infatti hanno approcciato subito bene alla gara Al decimo minuto Brightner colpisce in scivolata con la mano L'arbitro concede il rigore Capitan Carney trasforma Ma i dubbi ci sono E come? La Fiorentina trasformata completamente da un punto di vista di formazione rispetto alla Supercoppa Italiana con la Juventus Sfiora il pari con Jacques di testa all'undicesimo minuto Ma dal ventitresimo inizia lo spettacolo Messo in scena dal portiere svedese Stephanie Orström Se questa partita è terminata infatti solo per 1-0 È anche e soprattutto grazie al numero 87 Viola Che, codiovata da una difesa ma in difficoltà Si è dimostrata l'MVP della partita Riuscendo a parare ogni possibile occasione pericolosa Blues Nel secondo tempo Cincotta ha inserito Lana, Clalland e Bonetti Ma il pressing delle londinesi è fenomenale Tanto che il portiere Viola si è ritrovato a dover fare tre miracoli dal 77esimo minuto in poi Su Carney, su Kirby e infine sul pallonetto di Kutbert Un risultato positivo anche guardando al ritorno del prossimo 31 ottobre Quando la Fiorentina Women's sarà di Chanel Franche alle 19.30 per la gara di ritorno E potrà anche contare sul tifo fiorentino che, anche ieri, non ha lasciato da solo le ragazze Adesso testa anche al campionato che domenica c'è il Chiavo Verona In una gara importante Una gara molto importante per il campionato Ovviamente questa era la chiusura del servizio Dario, tifosi che stanno, come dicevi, anche ancora ribaditi nel servizio Facciamo però un ringraziamento Ai tifosi del club Firenze ovunque Che hanno seguito la Fiorentina anche a Londra Esatto Io credo che sia lo spot maggiore per questo calcio che sta crescendo Questo movimento che sta crescendo Serie B femminile anche perché c'è l'Empoli e l'Edis Empoli che vince la prima partita contro il Fortetudo Mozzecane 2-1 che vuole in testa la classifica Anche se in testa c'è l'Inter Ma soprattutto l'Arezzo che ha vinto 3-0 sopra il Milan Ladies Che è l'altra squadra del Milan Perché c'è la divisione come la Juventus Women e la Juventus normale Però andiamo invece, torniamo nel mondo dei maschietti Parlando di Serie D Oh che bello, il massimo campionato La nostra Serie A La nostra Serie A perché continua la corsa del tutto cuoio Che dopo aver vinto sul Monte Quarchi con Guidelli, Bianconi e Di Paola Sarà di scena contro il Viareggio Insegue la Pianese che fa sognare Pan Castagnai a 13 punti Che dopo aver battuto la San Giovannese con Catanese e Buongiorno Avrà il Prato Uscito sconfitto per 4-1 e con un nuovo allenatore Infatti De Petrillo sostituirà 7 soldi cacciato dalla società pratese in settimana Vince anche il Trestina sullo Scandici di Daviti Che però viene confermato ma lascia il DS dello Scandici Biagi E sarà invece di scena a San Gimignano, neopromossa Che invece è stata sconfitta da 3-0 dal Gavorrano Gavorrano che ha avuto questo grande stato di forma Grazie al cambio in panchina del nostro amico Atos Rigucci Bene anche il Ponsacco che pareggia due due con Zorich e Lici a Ghibizana e a Borgamozzano Mentre l'Aianese vince sul Sandonate e va a Forte dei Marmi questa settimana Il capocannoniere è Ortolini del Ghibiborgo Ma andiamo insieme a vedere la classifica con Tutto Quaglia 16 punti Inseguono Pianese 13, Ponsacco 13, Testina 13, Aquila Montevarchi 9, Seravezza 9, San Donato Tavernale 9, San Giovannese 9, Ghibiborgo 9, Canara 9, Sinalunghese 8 Da qui si spezza la classifica con Aglianese 5, Viareggio 3, Bastia 2, Prato 2, Scandici 2 a chiudere la classifica Questa è la classifica del girone D di serie D Andiamo a vedere anche il girone E No questo è il girone E Scusami, il girone E andiamo a vedere anche Il girone D andiamo invece sull'eccellenza Mi vuoi portare in eccellenza? Sì andiamo in eccellenza Allora fermo là Prima di parlare dell'eccellenza Allora vediamo se riusciamo a recuperare la classifica intanto No non ci riusciamo ci fa segno il nostro regista Emanuele Bartolini Allora prima di parlare di eccellenza Andiamo a vedere cosa ha fatto la Toscana Nel girone di UEFA Regions Cup Che appunto veniva Giocato proprio in questi giorni E veniva giocato proprio nella nostra regione Cioè la Toscana giocava proprio Tra le mura amiche Un girone quello delle Toscane Della squadra Toscana Che vedeva protagoniste La selezione Della Moldavia La selezione della Polonia E quella della Svizzera Un girone terminato Con tre squadre a sei punti Allora molto sfortunata la Toscana Che per effetto della differenza reti Si è piazzata a seconda Quindi non farà parte poi Del prossimo sorteggio Che deciderà come si accopieranno poi Le vincenti degli otto gironi Della UEFA Regions Cup Abbiamo esatto anche I gol della prima partita Quella vinta dalla Toscana Contro lo Ialoveni per 4 a 1 Poi era arrivata la sconfitta Contro gli svizzeri del Vood Praticamente poco dopo Che eravamo andati in onda Sabato scorso Quindi se per colpa della differenza reti Guidotti dovevi farne di più Eh vabbè dai Il nostro Elia Guidotti Che è stato protagonista Anche di una grandissima rovesciata Che però non ha portato a un gol L'abbiamo vista anche sui social Lo sai perché? So il motivo per cui Non ha segnato Perché i gol non valgono Nella Scarpadola del Mugello Sicuramente Sicuramente sarà così No in realtà ovviamente Per tutti i ragazzi È stato un dispiacere Perché era davvero Una bella esperienza Questa per dei giocatori dilettanti Ripetiamolo Di fronteggiare comunque Dei rivali A livello europeo Alla fine L'ultimo match Della Toscana Quindi è quello Contro la selezione Polacca Si è disputato Lunedì E appunto è arrivata la vittoria 2-1 per la Toscana Non sufficiente però Per ottenere Il passaggio del turno Adesso io Ti passo la palla E tu fai come Guidotti Fai i gol Raccontandoci C'è l'eccellenza Ci raccontiamo l'eccellenza Perché ce l'avevamo lasciati Con la domenica Che non aveva giocato Abbiamo giocato di mercoledì L'eccellenza Abbiamo giocato perché L'eccellenza si ferma Ma regala il Poggi Bonzi In testa Che vince a signa E si porta 5 vittorie Su 6 gare Grazie ad un tocco di mano Di Cicali Che si accompagna il pallone sul piede E va a segnare Il Grassina invece Doma la colligiana Con Bellini, Torrini e Baccini Sarà contento Il presidente Zepponi E andrà a sfidare proprio il Grassina Il Signa In casa del Signa La Fortis invece è lì Con un doppio Serotti E vince a Bucina E si avvia a giocare in casa Contro la Baldaccio Bruni Domenica Alle ore 14.30 Il Valdarno invece vince Contro il Porta Romano Oltrarno Che non sembra andare avanti È ultimo Infatti ad un punto Grazie alle rete di Bigeschi e Ponticelli E sfiderà una colligiana Che è uscita sconfitta Infatti nella sfida Contro il Grassina Una colligiana che abbiamo detto Ha tante ambizioni Vuole arrivare lassù Diciamo tante pretendenti Un campionato molto bello Con la Zenit Audax Che va a pareggiare 0-0 Con la Lastra E affronterà il Foiano Un Foiano Che ha sconfitto Per 2-1 Una quotatissima rignanese Che non sembra ingranare Diciamo un light motive Che la può portare A vincere questo campionato D'eccellenza Il capocagnonere È sempre Bruni del Grassina Quindi leggendo la classifica Cappozzi Bonzi 15 Grassina 14 Fortis 14 Valdarno e Signa 13 Anzi Valdarno 13 Signa 10 Ricordando che entrambi Hanno una partita meno Colligiana 10 Foiano 9 Zenit Audax 9 Rignanese 7 L'Astrigiana 7 Badesse 5 Valdeci Bruni 4 Antella 4 Bucinese 4 Prato Vecchio Stia 3 Chiudono la classifica Castiglianese a 2 Porta Romana ad 1 Corriamo avanti Corriamo avanti Perché dobbiamo correre Senza soluzione di continuità Corriamo avanti Tanto tu ci vuoi portare in promozione Allora anticipiamo un attimo Un tema della trasmissione Che sarà Perché volevamo parlare delle bosche Ma abbiamo appunto preparato Un po' di statistiche Perché il nostro ospite Appunto noi lo attendevamo Qua per parlare Dei grigionieri Andiamo a vedere un attimo Il Le Boschi Come se la passa Andiamo quindi nel parziale E poi andiamo a analizzare Anche tutto il resto del campionato Ricordiamo che il Le Boschi Che non sta andando benissimo In questo primo campionato di promozione È in una zona calda Della classifica Anche se dobbiamo dirlo Insomma sono arrivati tutti i risultati Confortanti Per la squadra di Serrau Confortanti Con quattro punti Però un girone molto difficile Quello del Livornese Grossetano Della promozione Venturina Cascina Forcoli Valdera Monte Rotondo Poi c'è il Galluzzo Vabbè quindi un berbino Possiamo chiamarlo così Però il Le Boschi È a quattro punti Giocherà domenica Contro l'Urbino Taccola Una sfida importantissima Le Boschi comunque Si sta difendendo molto bene In un campionato difficile È stata uscita sconfitta Due domeniche fa Contro l'Armando Picchi Comunque una squadra Che ha un passato Glorioso All'interno anche di serie Maggiori E comunque è un girone Molto molto complesso Anche per via delle trasferte Guarda se Se rivediamo la grafica Ecco vedi qui abbiamo Anche la classifica Che abbiamo preparato Con praticamente Un'eventuale vittoria Domenica Li porterebbe Praticamente nella zona Playoff Certo Anche perché ancora La classifica è molto corta Si siamo veramente Alla quarta giornata Quindi Se invece rivediamo la grafica Tu ci dicevi appunto È un campionato difficile È un campionato combattuto È un campionato In cui Insomma Una neopromossa Potrebbe fare fatica Di fatto A livello dei punti La situazione Attualmente Non è delle più rose Per i Le Boschi Ma c'è spazio per rimediare E poi soprattutto Se andiamo a vedere Armando Picchi Partita complicata Le Boschi Che perde di misura Contro il Cascina Una sconfitta di misura Con il Gambassi Una vittoria rotonda E poi Appunto In apertura di stagione Arrivò L'1-1 Che è detto Subito il primo punto Al Le Boschi Quindi dimostrazione Che la squadra C'è Viva C'è La squadra c'è Con grandi campioni Ovviamente Cercheranno anche Grazie spinti Dalla curva Moana Pozzi Di arrivare in posizioni Superiori Volevamo perdere Volevamo perdere Ma Andiamo in promozione Andiamo in promozione Girone A Questa volta Perché La Larcianesi Continua a tenere la testa Dopo il pareggio Di due settimane fa Con la Pontremolese Il Viaccia invece vince Contro il Lampo Con Dubbià Bastoggi E sempre Dubbià In alto anche Il Montespertoli Del nostro amico Matteonesi Che vince 2-0 Sul Luco Con Maltomini A Chiaziano invece Il Jolly cade Mentre la Sestese vince Con De Gorin Nel Delbico Con Calizzano Questo abbiamo Un piccolo recap Un po' americano Ricordandomi invece Che questa settimana Si gioca L'Arcianese Maliseti Luco Lampo Sfida importantissima Per i Mugellani Invece la Sestese Sarà impegnata Contro il Quarrata Olimpia Mentre Sarà Derbino L'ho chiamato così Tra Jolly Montemurlo E Calizzano Sul campo del Jolly Montemurlo Capo cannoneale Di questo Campionato E la promozione Girone A È Cardillo Diciamo Uno che Di campionati ne ha fatti E anche Di maggiori Ovviamente Nostre attenzionate speciali Sono le Pratesi E ovviamente Le Mugellane E anche Montesperitore Che vuole continuare A sognare A far sognare Potrebbe essere La terza promozione Consecutiva Per gli uomini In giallo-verde Ma noi Scivoliamo invece In promozione Di Girone B Con Il Dicomano Che ricordiamo Cosa ha fatto Due settimane fa Una sconfitta Contro il Mazzola Val d'Arbia Invece C'è stato un pareggio Tra Rufine e Pontassieve In una situazione opposta Con il Pontassieve Che ha dieci punti E in testa Con il Sochi Casentino Mentre La Rufina È a due punti Praticamente Insieme a Firenze Ovest Che deve tornare su Deve tornare a vincere Deve tornare a vincere Lo deve fare Contro il Mazzola Val d'Arbia Che lo ospita Proprio questa settimana Il capocannoniere È Rubechini Del Sochi Casentino Ma In questa classifica Ci sono situazioni ambigue Quindi Pontassieve Dieci Dicomano Cinque Rufina Due Ovest Uno Ovviamente In virtù delle penalizzazioni C'è Mibiana Che chiude a zero Quindi È anche questo Di promozione Girone B Con tante Diciamo Trasferte lunghe Perché io penso Che per una squadra Come l'Ovest Andare a Montalcino Andare a Cortona Andare ad Asta Andare a Castelnuovo Berardenga Ci vuole Ci vuole un po' Un po' di pullman Diciamo Trasferte belle lunghe Chi invece fa le trasferte Un po' più corte Fabio Eh beh Scendendo di categoria Si fanno sempre Le trasferte un po' più corte Sono i nostri amici Del Novoli Novoli di Rossi Io ho la cravatta arancione Oggi perché Sono un po' Novolano Possiamo dirlo Novolano perché Il Novoli è in testa E dopo aver vinto Settimana scorsa Questa settimana Sarà impegnato Contro il Cerbaia Cerbaia che è un punto Quindi partita Sulla carta più facile Però ovviamente Siamo inizio campionato In tutto questo Vi è accompagnato Dall'idea all'incisa E dall'audace legnaia Anche loro a 9 punti C'è invece la settignanese a 7 C'è a 5 punti Ovviamente il Firenze Sud Del nostro amico Giovanni Simonetti Che sfiderà il Pelago Dopo aver pareggiato a Certaldo In un campaccio Perdonatemi il termine Un po' toscano Ma va bene così In tutto questo Guardiamo la classifica Con incisa a 9 Legnaia a 9 Novoli 9 Certaldo 7 Africo 7 Settignanese 7 Pelago 6 Impruneta 6 San Clemente 6 Barberino Valdezza 5 Firenze Sud 5 Greviciana 4 Chianti Nord 4 Rondinella a 3 Rondinella che vince Rondinella che questa settimana Praticamente andrà a giocare Col Barberino Valdezza Ma ci andrà Fusa E mi direi Fusa? In che significa Fusa? Significa che Il Ponte Rondinella Marzocco Ora è Ponte Rondinella Olimpia Firenze Ha avuto un'ulteriore fusione In settimana L'abbiamo scoperto dai social Grazie al Presidente Bosi Che salutiamo ovviamente Quindi ulteriore fusione Per il Ponte Rondinella Che aiuta una società Che ha avuto dei problemi Con il campo L'Olimpia Firenze Ricordiamolo Ricordiamolo È proprio l'impianto storico Di Campo di Marte Che di fatto È andato Assegnato A un'associazione Di promozione Per lo sport Che non è ovviamente La FIGC Per quanto riguarda L'Olimpia Era praticamente cessata L'attività sportiva Ma andava perso poi Un patrimonio Per quanto riguarda Il settore giovanile Perché sappiamo Che la società giallonera Da sempre È uno dei fiori All'occhiello Proprio della città di Firenze Per quanto riguarda Il calcio dei più giovani Insomma Quante volte Abbiamo giocato Anche noi Nei nostri passati Con un brivido Con un brivido Anche perché giocavi Accanto allo stadio Vedevi i fanaloni Dello stadio E quindi Ti emozioniamo un po' Guarda Io il brivido Lo provavo sempre Perché in genere Perdevamo 4-5-6-0 Il brivido Era di rebrizzo Quel brivido blu Quel brivido blu Esatto Comunque Insomma Importante Che quindi Due realtà fiorentine Anzi tre Si siano unite Per continuare La loro attività Sicuramente importante Anche per la rondinella Che così rinforza Il suo settore giovanile Rinforza il suo settore giovanile Ovviamente Salutiamo anche Alberto Malucci Speriamo di averlo tra di noi Nelle prossime settimane O qui ovviamente O a Viola Express Salutiamo ovviamente Ricordiamo l'appuntamento Di lunedì Alle 21.10 Con Elisa Sergi E tutti i suoi ospiti Però io Andrei ancora sotto Però nel girone H Perché ci hanno redarguito E voi non fate il girone H Lo facciamo Perché questa settimana Si giocherà Ciao per Michele Bottoni Ciao per Michele Albereta 72 Contro il San Polo Albereta San Salvi Ludus 90 Salutiamo anche il nostro Lorenzo Mussani Amico della Ludus 90 Club sportivo Firenze Contro Flora Domina Cubino Trocedo Florence contro la Faellese Fulgo Castelfranco Contro il DLF Firenze Il Londa Con l'Atletico Fini E poi un derby Possiamo chiamarlo un po' così Molinense Contro San Godenzo La classifica vede la Florence In testa a 10 punti Molinense al 9 Londa ad 8 Cubino ad 8 Albereta 72 a 8 Sempre lì chiude la classifica Il DLF Firenze a 0 Con la Faellese Trocedo Trocedo a 1 Trocedo a 2 Con il bomber Silvano Posi Che speriamo Segni a fare Ricordando quella puntata splendida In open air Alla festa dello sport Al Vivi lo sport Di Borgo San Lorenzo Quindi speriamo che ci rinvitino Era una promozione No certo Al Vivi lo sport Se ci rinvitano Noi torniamo Ovviamente Intenzionati anche a far meglio Silvanone Posi Che insomma Ha più vite di un gatto Perché anche quest'anno Sembrava dovesse smettere Invece poi Lo smette ma Ha ricominciato La passione La passione Per questo dottore del gol È troppo forte È troppo forte Questo dottore del gol Però Seconda categoria Girone M Entriamo in Mugello Perché E quindi i dottori del gol Ce ne sono un po' meno No ce ne sono un po' meno Perché Entriamo in Mugello Anche se a comandare la classifica È una pratese Il Comeana a 12 punti Inseguita dal Semperassiava a 10 Galeanese 9 Chiesa 9 a 9 Cogliano Santa Lucia 8 Firenzola 7 Scalperi a 6 Ovviamente salutiamo Gianluca Torresi Ciao Gianluca Non mi fare fare troppe flessioni Pietà 2004 Salutiamolo Querceto 5 Barberino 5 San Giusto 4 Club Mezzana 4 Montepiano 3 Rontese 1 La Querce 1 Sant'Agata 0 Ovviamente Preannunciando cosa succederà In questo weekend Il Barberino pareggia Ha pareggiato due settimane fa E sfiderà il Firenzola Perdonatemi Ho errato il calendario Ma giocano tutti questa settimana È derby tra Scalperia e Sant'Agata Un derby visto in maniera diversa Da i ragazzi di Torresi E quelli del Sant'Agata Perché il Sant'Agata Ancora a 0 punti C'è ovviamente la Rontese Che andrà a sfidare Il Semperassevia proprio E diciamo Di preparare uno specialino Speriamo di trovare Qui in nostro studio Nel derby Quello tra Scalperia E San Piero Che succederà Tra pochissime settimane E viverlo insieme Per vivere a piano Per essere ancora più vicini A queste due realtà Che giocano il derby Nello stesso comune Forse una partita Che non si vede tutti i giorni Ovviamente speriamo Nel loro andamento positivo In questa stagione In questo campionato Ovviamente seguite anche Montepiano Gallanese Per i ragazzi della Gallanese Una trasferta lunga Sui monti Pratesi Davvero una trasferta lunga E di quelle impegnative Di quelle che fanno Ovviamente Insomma bene Però anche A questo calcio A questo girone Che è stato un po' rinnovato Da questa ventata Di Pratese Era ormai Da un po' troppo tempo Forse che C'erano tante squadre Mugellani Mugellani da sole Con qualche Fiorentina Questa ventata Dal Pratese Ti dico la verità Alcuni non l'hanno gradita Ma insomma Ci dà anche la possibilità Di vedere In realtà Sotto la nostra L'ente di ingrandimento Un pochino Più da vicino In realtà Che magari conoscevamo Anche un po' meno Che magari conoscevamo Ma che avevamo toccato Meno Per quanto riguarda La seconda categoria E in particolar modo Il comune di Scarperia Perché giustamente Di Scarperia e San Piero Scusami Altrimenti Gli amici di San Piero Si arrabbiano Anche giustamente Ricordiamo Insomma Il sindaco Federico Ignesti Che è stato recentemente Qua nei nostri Nei nostri studi Insomma Ci ha Praticamente Anticipato L'intenzione Appunto Di valorizzare Il lavoro Che queste tre società Fanno sul territorio Senza dimenticare Poi anche L'importantissimo Lavoro svolto Dalle realtà Amatoriali Del territorio Perché C'è lo Scarpester Società davvero Fortissima Del calcio Amatoriale Che tutti gli anni Riesce Tutti gli anni O quasi Riesce a vincere Il proprio campionato C'è Comunque In generale Un movimento Amatoriale Anche per quanto riguarda San Piero E Sant'Agata Quindi davvero C'è una grande Partecipazione sportiva Il sindaco Ospite Nei nostri studi Ci ha Raccontato Come vorrà valorizzare Queste rivalità Sane Sportive E che insomma Fanno parte sicuramente Di quel calcio di campanile Che raccontiamo Io Dario fra l'altro Insomma Se riusciamo a portarlo in studio Visto che già l'anno scorso C'era la voglia di portare Ignesti in studio Speriamo Speriamo Facciamo un derby interno Sarebbe bellissimo Lui Calciatore Calciatore Dello Scarpester In passato Quindi sarebbe bello Averlo qua Per sentire un po' I suoi punti di vista Le sfumature tattiche Che individua un sindaco Uno abituato a grandi pressioni A grandi fusioni Assolutamente Assolutamente Però oltre a questo Vogliamo ricordare Hai parlato di realtà Io passo a Borgo San Lorenzo Perché ha cominciato Il campionato Nella Serie B Giusto Di calcio a 5 La mattagnanese Dei nostri amici Del nostro amico Tommaso Quartani Comunque dei tanti amici Che sono venuti qua Insieme a noi Mattagnanese Che ha perso la prima partita Però di poco L'abbiamo vista Venerdì scorso Ma quindi Seguiamola Tutte le settimane Sui loro social E il loro campionato Un campionato importante Come quello della Serie B Di calcio a 5 Calcio a 5 Che rimane Uno dei nostri interessi E approfondiremo Anche più avanti Con anche Le ragazze del femminile Perché ricordiamolo Teleiride È molto vicino È Grande amica Come emittente E anche della Florenzia Futsal Squadra di calcio a 5 Femminile Che fra l'altro Ha vinto la prima partita Anzi la seconda partita Perché dopo la prima Era rimasta sconfitta Per 7 a 0 Contro il Napoli E questa domenica Ovvero domani Ci sarà la terza giornata Dei campionato Ricordiamo si parla Di Serie A Quindi insomma Si parla Di un campionato impegnativo Ricordiamolo A Firenze Il calcio a 5 Ha riportato una coppa Anni fa Ormai Non più nel tempo recentissimo Ma anni fa Ha riportato una coppa Italia Quindi sicuramente È una realtà Quella del calcio a 5 femminile Che può portare Gloria a Firenze Noi siamo in chiusura Dario Ovviamente l'appuntamento di oggi Un po' penalizzato Dall'assenza Del nostro ospite E rimando però A quello Di seguire sempre Zona Gol E di tornare anche Settimana prossima A trovarci Sempre nell'orario di pranzo Perché insomma Abbiamo tante sorprese In serbo per voi Tante sorprese E tanti ospiti La prossima settimana Io ovviamente Vi invito ora A cambiare canale E a passare a seguire Le ragazze di Davide Mazzanti Che stanno giocando Contro la Serbia In questa finalissima Del mondiale Di Giappone Ovviamente Poi la grande pallavolo Rimane sempre qui Tutte le iride Quindi ci ritroviamo Con la pallavolo Ma soprattutto con Zona Gol Sabato prossimo Come sempre E allora Arrivederci Buona Buon fine settimana E ci ritroviamo Il prossimo sabato Ciao 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 Ciao